amici di monster hunter buonasera benvenuti in monster hunter shopping a casa vostra a soli 10 euro al mese a 12 rate vi offreremo una splendida vasca da bagno a incasso ragazzi e le prime dieci telefonate riceveranno in omaggio una cinghia di distribuzione ragazzi affrettatevi siete stanchi della classica vasca da bagno vostro marito la sporca non vi preoccupate questa già nasce sporca quindi ragazzi affrettatevi e mi raccomando iscrivetevi al canale e seguite le nostre avventure ciao ragazzi